25 Febbraio 2020 Messaggio di Nostra Signora Cari figli, io sono la vostra madre e vi amo. Datemi le vostre mani e io vi condurrò a mio figlio Gesù. Vangelo, Confessione, Eucaristia, Santo Rosario, Consacrazione al Mio Cuore Immacolato, Amore per la Verità. Queste sono le armi che vi offro per questi tempi difficili. I nemici tramarono contro Gesù, ma la vittoria fu di mio figlio Gesù. In questi tempi difficili, i nemici tramano contro la Chiesa del Mio Gesù, ma la Chiesa sarà vittoriosa. Camminate per un futuro di una grande guerra. State attenti. Siete del Signore e Lui aspetta il vostro sì sincero e coraggioso. La vostra vittoria nell'amore e nella difesa della verità. Non tiratevi indietro. Coraggio. Voi siete del Signore. Affastatevi dal mondo. Allontanatevi dal mondo con i vostri esempi e parole testimoniate la vostra fede. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.